E siamo alle solite, quando il gioco si fa duro le italiane spesso cadono, è accaduto anche per la Roma che contro il Lione è stata estromessa dalle fasi finali, ormai si può dire così, della Europa League. Ma era già successo alla Roma e quindi non è servito neanche l'esempio che aveva Lampante ancora in memoria, perché se ricordate eravamo alle fasi preliminari di Champions League e lì la Roma era caduta con il porto in casa, fra l'altro, quando tutti si aspettavano che sarebbe riuscita a superare quell'ostacolo. Sì, non era facile, ma Spalletti aveva comunque detto, esagerando a mio avviso, che la Roma aveva 60% di probabilità di passare il turno e invece è caduta ancora una volta, 2 a 1, la vittoria che però non permette ai capitolini di passare il turno e di andare avanti nel tabellone di Europa League. E allora cosa si può dire? Che a onta di coloro che non sopportano la Juventus bisogna cominciare a pensare, meno male che in Italia c'è la Juventus che in un modo o nell'altro riesce comunque ad andare avanti e a portare avanti in Europa il calcio italiano. Pianco 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 Pianco